Apre veramente col botto questa serata perché possiamo dire che Esport Empire contro Exceed è un po' il match più atteso di questa stagione Ho avuto un po' dei flashback brutti, ho visto Alerano saltare su dei palloni Oh Shuffleverse, uno a uno e Alerano ancora qui che pecca un po', sta perdendo la pazienza Prima l'ho visto appunto saltare su dei palloni che poteva tranquillamente lasciare in due o tre occasioni Carca spaparacchiata, quindi Shuffleverse ha tempo di raccogliere Non lo fa benissimo perciò spunta Alerano, infatti mette in difficoltà anche un lipbox che si allunga tantissimo Perderà una posizione che fortunatamente Sorius gli permette di recuperare Ancora Sorius, spero nel mezzo buono il pub, Shuffleverse La forza Exceed, alla fine esce Esatto e arriva nel momento cruciale a riacciuffare la serie Cazzo è qui a dar fastidio ma poi il tocco è quello di Carca che sta di aver messo una pallaccia nel pegno a tre lipbox Sorius su lipbox, uno a uno E partiamo proprio da quella pallaccia effettivamente Carca ha realizzato di aver fatto un po' una carcata Olè, ancora Lerano in dunk E poi Sorius, che bocca Due a uno, gli occhi indiettati di sangue, pava la bocca Exceed Sono tornati, sono tornati Sorius, bravo a rimanere in profondità Comunque per vedere l'attesa di quel 50 Giusto il suo trucco perché Shuffleverse era lì dietro di lui Lipbox 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 3 a uno Qui si confeziona la solo play ma Taz non legge molto bene il disimpegno Gli scappa un po' la palla Sorius su Taz non riesce a passare questa volta il diavolo Quindi ancora Sorius Sorius 4 a uno Su un Carca Lasciamelo dire di Carca E salto E questa volta Carca non può fare nulla Sorius spara in rete E forse ancora tempo ci hanno Perché dall'altra parte gli Sporz Empire Veramente stanno giocando bene Un Carca ultra in forma Alerano che te lo dico a fare Taz Ce la sta mettendo tutta Non mi sembra che stia facendo grossissimi errori Ma qui Sorius Come stavi dicendo prima Diamato A prenderne le redini Lo fa E questa volta Li fucila di gol Taz deve ritornare Carca impegnato sul taglio della rotation Contro Sorius Che trova giustamente l'angolo Che bella giocata Sorius Vic Rivediamola Perché qui è tutto Sorius Ti gustiamoci qui Questa play Li Sorius Molto bravo A capire le intenzioni di Carca Che non era in una buona posizione Gli ha fatto passare la palla Bravissimo Taz dal ceiling Abbastanza buste Per inventare ancora qualcosa Ma Li Fox è troppo sveglio Per farglielo fare Quindi Carca in due tempi Bella la giocata Lerano però non ci si intende Ci pensa Taz Ne impegna addirittura 3 dell'exeed Sorius riesce ad uscire Mettendo i suoi in una posizione di favore Carca fa quello che può Sorius E' lui il demonio Exeed Che riporta ancora una volta i suoi davanti Sorius 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 Bellissimo Vorrei stare con loro Nel Discord Perché secondo me Stanno godendo fortissimo Scoduria senz'altro Perché mantengono la vetta In questo scontro diretto Quindi Così ridisegnata la classifica L'Aru Sì Primo posto Scontati Come sempre 17 punti Sì già Non però Non farò C'è La 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 C'è Grazie a tutti.